Buongiorno, mi presento, sono Giorgio Cacciabue, lavoro in Regione Piemonte, la Direzione Opere Pubbliche a difesa del suolo, economia montana e foreste, e in particolare un settore tecnico, che è il settore tecnico regionale di Alessandria Asti. Oggi voglio parlarvi delle esperienze, delle tecniche di gestione della vegetazione e ripari in Piemonte e in particolare vedremo, diciamo, come sommario di quello di cui poi andremo a parlare, il quadro generale di riferimento, vedremo se e come è necessario gestire e se è necessario gestire chi può farlo e con quali mezzi e vedremo poi i criteri di gestione. Come dicevo prima, appunto, faccio parte della Direzione Opere Pubbliche, economia montana e foreste della Regione Piemonte, il settore tecnico, lavoro in un settore tecnico regionale. La competenza relativamente alla gestione della vegetazione riparia è una parte della competenza che è derivata dal trasferimento, diciamo, dallo Stato alle Regioni, delle funzioni connesse alla gestione dell'autorità idraulica, cioè quindi relativamente sia alla polizia idraulica derivante dal regio decreto del 523 del 1904, sia alla competenza forestale che quella relativa al vincolo idrogeologico. In Piemonte ci sono cinque settori tecnici regionali, suddivisi per area territoriale, che appunto si occupano delle attività operative e quindi gestiscono la parte relativa alla concessione dei beni del demagno idrico fluviale, la polizia idraulica e le attività connesse, diciamo, alla gestione forestale e al vincolo idrogeologico. Se adesso andiamo, diciamo, a parlare in particolare dell'argomento che tratto, cioè quindi della vegetazione riparia in Piemonte, mi piacerebbe in primo luogo incominciare a dire qualcosa sulla funzione della vegetazione riparia. Questa, diciamo, è proprio giusto due parole perché probabilmente l'argomento sarà già stato trattato in maniera sicuramente, diciamo, esaustiva da altri colleghi. In particolare, però, vorrei ricordare, diciamo, quali sono le funzioni principali della vegetazione, in particolare le rivediamo qua ricapitolate, cioè la vegetazione riparia è sicuramente utile per la gestione delle piene e ha una funzione di stabilizzazione e di mantenimento delle sponde, grazie appunto all'apparato radicale e quindi è su oggi una importante funzione antierosiva. Assicura poi una biodiversità e un equilibrio, quindi, al complesso delle relazioni che riguardano tutto l'ambiente circostante al corso d'acqua, mantiene una buona copertura dell'acqua, questo dal punto di vista appunto dell'ambiente, porta ambreggiamento al fiume, consente un'alterlanza di ombra e luce e riduce quindi le variazioni giornaliere di temperatura. Purifica poi l'acqua, intrappola i sedimenti, assorbe gli inquinanti dalle radici e poi svolge altre importanti funzioni dal punto di vista del paesaggio e quindi non solo, quindi sull'aspetto più prettamente paesaggistico ma anche l'aspetto naturalistico e poi c'è tutto l'aspetto che riguarda l'utilizzo ricreativo delle sponde e dei corsi d'acqua in generale. La domanda che ci possiamo porre è quella che riguarda se è necessario mantenere o gestire la vegetazione riparia e se è necessario gestirla, quali sono i criteri migliori per poter effettuare questa operazione. Abbiamo visto che la vegetazione è un elemento sicuramente primario nel buon funzionamento del corso d'acqua. Parliamo quindi di manutenzione, ma per manutenzione intendiamo mantenere una data situazione, quindi mantenere uno stato di fatto attraverso una serie di opportune cure e di interventi puntuali, che è diverso dal parlare di riqualificazione in quanto in questo caso noi attraverso una serie di azioni favoriamo il ritorno ad uno stato anteriore rispetto a una situazione attuale che ci vede con un ecosistema più degradato e questo lo facciamo attraverso un'azione combinata di dinamiche naturali e di interventi antropici chiaramente ragionati e la riqualificazione è un intervento che si applica a interi settori fluviali. Diciamo che per assicurare al meglio le funzioni che abbiamo visto che la vegetazione ripari e svolge questa deve essere gestita e mantenuta in un buono stato di conservazione e quindi deve avere una larghezza sufficiente, deve esserci un'alternanza fra zone ombreggiate e zone soleggiate, ci deve essere la presenza di legno e latifogli in acqua e quindi ci deve essere una vegetazione diversificata per quanto possibile, quindi con specie differenti e diversificata su più strati, quindi albire, arbusti e specie erbacee. Quali sono gli aspetti più problematici nel mantenimento della vegetazione in un buono stato. Un aspetto può essere l'assenza di manutenzione e quindi le situazioni che portano ad un successivo stato di abbandono. Le cause possono essere diverse, possono essere legate alla inaccessibilità delle aree, possono anche essere legate ad un invecchiamento della popolazione presente, ma anche alla mancanza di finanziamenti o di interessi particolari nella gestione della vegetazione. Le conseguenze sono che in questa maniera qui ovviamente ci sarà una diminuzione di biodiversità perché lo sviluppo avviene in maniera molto concentrata, ci sarà una creazione di ostacoli, ci saranno alcune aree che saranno particolarmente difficili da raggiungere. Altre problematiche che sono legate, che portano al degrado, diciamo, dello buono stato di manutenzione della vegetazione possono essere la presenza di colture inadatte lungo le sponde, possono essere quindi legate a una gestione sbagliata delle rive e quindi dal punto di vista pratico possono esserci interessi economici che premano, diciamo, sul corso d'acqua e come conseguenze possiamo avere anche in questo caso o l'annullamento completo della vegetazione riparia, cioè sostanzialmente abbiamo le colture che arrivano fino al ciglio di sponda, una fragilità ulteriore delle sponde e anche in questo caso una diminuzione della biodiversità. Per cui per poter gestire in modo corretto la vegetazione di un corso d'acqua bisogna in primo luogo avere una buona conoscenza, una buona conoscenza della situazione attuale, bisogna avere, tenere presente la condizione naturale di riferimento, cioè la condizione migliore, per poter poi andare a individuare quale sarà il nostro stato definitivo, cioè quello con cui gli interventi ci tenderanno, diciamo, ad arrivare. Per cui bisogna conoscere, sicuramente avere, quindi fare un buono studio relativamente alla situazione attuale per poter poi andare ad intervenire nella maniera più corretta. In particolare, soprattutto oggi, perché abbiamo visto che nel corso degli anni interventi, diciamo, non opportuni o interventi effettuati in maniera non corretta non hanno fatto altro che facilitare lo sviluppo di vegetazione non autotona, quindi vegetazione esotica molto più aggressiva rispetto alla vegetazione autotona che tende a prendere il sopravvento e quindi a degradare ulteriormente, diciamo, l'ambiente perifluviale. Allora, vediamo in primo luogo di dare un quadro generale sulla normativa che regola la gestione della vegetazione riparia, partendo dalla normativa europea. In particolare, dal punto di vista del quadro normativo comunitario, vorrei citare tre direttive che sono la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli e la direttiva Quadro sulle Acque. In particolare, quest'ultima, che si pone come obiettivo finale, quella di raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranei entro il 2015. Ora siamo nel 2019 e sappiamo che in alcuni tratti non sono stati raggiunti, diciamo, gli obiettivi della direttiva, per tutta una serie di motivazioni. Dal punto di vista del quadro nazionale, abbiamo diversi provvedimenti che sono entrati o comunque coinvolgono la gestione della vegetazione in quanto parte della gestione dei corsi d'acqua. In particolare, già nel 1993 era stato fatto un DPR, un DPR 14 aprile del 1993, che dava delle indicazioni in merito alla modalità di redazione dei programmi di manutenzione idraulica, in cui si diceva che sostanzialmente negli interventi di gestione della vegetazione riparia bisognava comunque tener conto, per quanto possibile, di mantenere e conservare i consorsi vegetali, che colonizzano in modo permanente gli abiti di ripare e le zone di deposito alluvianale. In particolare, anche, si davano dei criteri sulla rinaturazione delle sponde che veniva intesa come un intervento di difesa e di protezione delle sponde stesse da dissesti e da eventuali erosioni provocate dalla velocità della corrente. A livello sempre, diciamo, nazionale, è stata poi fatta la direttiva PAI per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione, nell'ambito della quale venivano definiti, in particolare, anche qui venivano dati particolari criteri relativa all'approccio sulla gestione della vegetazione riparia. Veniva infatti detto che gli interventi devono tendere al recupero e alla salvaguardia della caratteristica naturale ed ambientale degli alvi. Non solo, l'esecuzione doveva essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali. Quindi, anche la manutenzione ripristino, anche parziale delle apri trasversali in alveo, doveva prevedere opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua da Montevalle, con particolare il riferimento anche alla fauna oittica. Sempre relativamente alla normativa nazionale, citiamo il decreto legislativo 152 del 2005, perché è l'articolo 115 che riguarda la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e in particolare demandava poi alle regioni la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di pertinenza di almeno 10 metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, vietando comunque la copertura dei corsi d'acqua, dove non si è imposta le ragioni di tutela della pubblica incolumità. In questo caso, tutti gli interventi, comunque, veniva comunque ricordato che sono soggetti all'autorizzazione prevista dal reggio decreto 523 del 1904. Dal punto di vista regionale, una normativa che incide sulla gestione della vegetazione riparia è quella derivante dalla legge forestale regionale, la legge regionale 4 2009, che all'articolo 13 prevede il regolamento forestale quale strumento operativo, nell'ambito del quale si stabiliscono anche, e sono state poi quindi stabilite, le modalità di gestione dei boschi in situazioni particolari e, in questa maniera, comprendendo anche i boschi localizzati lungo i corpi idrici. All'articolo 37 e l'articolo 37 bis, infatti, si disciplinano gli interventi nelle aree di pertinenza dei corpi idrici. In particolare, vorrei ricordare il comma 1, che dice che la gestione delle formazioni forestali della vegetazione ripariare nelle aree di pertinenza dei corpi idrici avviene nel rispetto delle funzioni anti-erosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche che queste ultime svolgono. Sempre il regolamento forestale, quindi, definisce la tipologia di intervento che si può effettuare nell'ambito dei corsi d'acqua per quanto riguarda la gestione della vegetazione. In particolare, all'interno dell'alba inciso è consentito il taglio manutentivo della vegetazione, in maniera tale che questa venga mantenuta in stadio giovanile flessibile, prevedendo anche il taglio completo, quindi, della vegetazione per necessità legate alla sicurezza idraulica. Fuori dall'alba inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda, è consentito invece il taglio di manutenzione, rilasciando almeno il 20% in copertura, presentando quindi soggetti più stabili, nonché è consentito il taglio di tutte le piante inclinate e instabili. Per quanto riguarda invece tutte le altre zone rimanenti nella fascia A del PAI, sono invece consentiti i tagli previsti dalle norme generali applicabili a tutti i boschi previsti dal regolamento forestale. È sempre consentito il taglio della vegetazione che danneggia le opere di difesa e, un aspetto importante da tenere presente nella realizzazione degli interventi, si prevede la sospensione dei tagli, quindi nel periodo di nitificazione, quindi dal 1 aprile al 15 giugno. È prevista poi sempre la comunicazione semplice come comunicazione di taglio. L'articolo 37 bis disciplina gli interventi di manutenzione idraulica. In questo caso, questi tipi di interventi realizzati dall'autorità idraulico competente o da questa autorizzati sono soggetti unicamente alle disposizioni del reggio decreto 523 del 1904 e all'articolo 29 delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico e per cui gli interventi così, diciamo, descritti è consentita l'acceduazione senza rilascio di matricine. Per finire, la normativa regionale volevo citare ancora la delibera numero 38, quindi una delibera di giunta regionale numero 38, 88, 49 del 26 maggio del 2008, che detta gli indirizzi tecnici in materia di manutenzione e sistemazioni idrogeologiche ed idraulico-forestali. Per stabilire delle priorità di intervento dobbiamo concentrarci su una serie di parametri di valutazione. Alcuni di questi parametri volevo citarli, cioè occorre valutare, particolarmente in relazione agli obiettivi che ci poniamo, dobbiamo valutare le caratteristiche del corso d'acqua e le caratteristiche della vegetazione. Queste caratteristiche devono essere legate alle condizioni stazionali e quindi occorre verificare rispetto ai singoli tratti omogenei gli eventuali rischi, quindi i rischi di inondazione, i rischi di erosione per quanto riguarda i settori urbanizzati e le infrastrutture e bisogna valutare le altre condizioni stazionali, in particolare le aree di interesse naturalistico, le eventuali aree di interesse recreativo. Poi andando più nello specifico, come interventi di carattere puntuale, deve essere fatta una valutazione sulle specie presenti, sul tipo di governo, sullo strato vegetale presente, sulla posizione delle piante rispetto all'acqua, sulla loro inclinazione, quindi sulla stabilità, sul senso di inclinazione, sull'altezza e sul diametro, sullo stato dell'apparato radicale, sul loro stato sanitario e sulla capacità di rigenerazione. Dobbiamo inoltre tenere presente e considerare i fenomeni localizzati di erosione. Ma quali sono gli obiettivi che dobbiamo ricercare e dobbiamo definire in particolare in base alla situazione del tratto che stiamo considerando? Cioè dobbiamo favorire il deflusso delle acque oppure dobbiamo frenare il deflusso delle acque? Dobbiamo evitare l'erosione? Dobbiamo limitare o evitare l'apporto di legname? Dobbiamo migliorare la funzione paesaggistica? La fruizione? Dobbiamo favorire l'attività di pesca? Favorire la vita della fauna ittica? Dobbiamo mantenere dei biotopi particolari? Dobbiamo conservare particolari elementi della fauna o della flora? Dobbiamo ridurre l'eutrofizzazione? Ecco, questi sono una serie, ne ho citati alcuni, ma probabilmente ce ne sono anche degli altri. Dobbiamo favorire la diversità dei popolamenti, quindi ci sono una serie di obiettivi che, diciamo, dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui andiamo a fare un intervento di gestione della vegetazione, che dal punto di vista, quindi, teorico potrebbe essere molto semplice, ma dal punto di vista pratico non è così, nel senso che qualsiasi intervento che noi andiamo a fare su un ecosistema lo andiamo sicuramente a condizionare. Definiti gli obiettivi possiamo dare quindi dei criteri generali di intervento, che ovviamente dovranno essere adattati in base alle condizioni stazionali. Possiamo dire in generale che nella prima fascia a contatto con l'alveo principale è sicuramente preferibile l'adozione del governo acceduo per le specie che sono idonee e quindi mantenere compatibilmente però con le esigenze di sicurezza delle piante pendenti che consentono un maggior abbreggiamento, nonché la presenza dell'irio morto in alveo, è sicuramente un aspetto positivo in quanto favorisce il rifugio e il nutrimento dell'iltiofauna. Dobbiamo ancora dire che gli interventi è utile e opportuno che siano più leggeri, tanto più leggeri, quanto più erano della vegetazione circostante, cercando il più possibile di tutelare le specie sporadiche e le specie autoctone. Possiamo ancora dire che è utile e opportuno pianificare gli interventi su turni regolari, ero avvicinati nel tempo, piuttosto che andare a fare interventi di carattere straordinario, quindi sarebbe utile e opportuno passare da una gestione di carattere straordinaria a una gestione di carattere ordinaria. Questo tipo di gestione è facilitata sicuramente dalla individuazione e dalla redazione dei piani di gestione della vegetazione riparia, che sono uno strumento di pianificazione che consentono su tratti di corsi d'acqua lunghi e di pianificare per, diciamo, tratti omogenei le tipologie dell'intervento necessarie e dandone anche, diciamo, i turni e di conseguenza definendone i periodi. Conviene ancora differire nel tempo il taglio sui tratti di sponde opposte e quindi, per quanto possibile, non andare ad intervenire su entrambi le sponde. Realizzare gli interventi evitando di arrecare il disturbo alla bifauna e litiofauna, in particolare durante le fasi di riproduzione, e quindi cercare il più possibile di rispettare i periodi riproduttivi sia della bifauna che dell'itiofauna. E tendere quindi alla rinaturalizzazione della componente vegetale il più possibile cercando di evitare di fare degli interventi che favoriscono le specie autoctone in particolare la robinia, l'ailanto, la butleia, e poi ancora, per quanto riguarda le specie arbustive, l'area inutria japonica. Nei tratti ai monti, se vogliamo adesso dare in particolare dei criteri di intervento in base alle zone e ai tratti, possiamo dire che nei tratti a monti dei centri abitati e delle infrastrutture, quindi ponti, captazioni d'acqua e rigue, sono prioritari gli interventi che sono volti a limitare i potenziali pericoli per la stabilità spondale o a rischio di fluidazione, quindi gli alberi piegati caduti in alveo, gli alberi con caratteristiche ritenute pregiudizievoli la stabilità, quindi in base alla specie, al rapporto altezza-diametro e le dimensioni dell'alveo, e gli alberi erosi al piede dalla corrente. Gli eventuali cumuli di detriti vegetali in alveo vanno inoltre attentamente valutati. Per quanto riguarda le operazioni non ammesse o comunque quelle operazioni che devono essere attentamente valutate, tra questi ci sono gli interventi sistematici dove non sussistono le reali condizioni che compromettano la funzionalità idraulica, quindi gli interventi devono essere limitati ai casi legati effettivamente alla sicurezza idraulica. In particolare occorre valutare con estrema attenzione se eliminare o meno tutto quello che effettivamente può creare degli abitati ideali per il rifugio dell'itiofauna, quali ad esempio le ceppaie protese oppure le ceppaie pensili, i soggetti pendenti, gli individui deperienti o morti che sono comunque rifugio e nutrimento per gli insetti e gli uccelli. Bisogna stare attenti per quanto possibile quando si fanno gli interventi a danneggiare la vegetazione circostante, ad eliminare gli arbusti e cercando di, per quanto possibile, di limitare l'utilizzo di mezzi meccanici pesanti. Se vogliamo ricapitolare quindi una strategia di gestione, partendo dai tratti diciamo meno delicati dal punto di vista della sicurezza idraulica, quindi quando abbiamo l'alveo largo e quindi sono tratti dove è più importante l'aspetto ambientale, possiamo tollerare piante d'alto fusto, possiamo fare interventi in genere esclusivamente di tipo selettivo, mantenendo se necessario interventi minimi. Possiamo anche valutare che non sia necessario nessun tipo di intervento. Nei tratti intermedi dal punto di vista della sicurezza idraulica è sicuramente tollerata una vegetazione più elastica e flessibile, quindi si dovranno prevedere interventi di diradamento, di taglio selettivo con turni temporali più brevi. Mentre nei tratti più critici dal punto di vista idraulico, quindi in corrispondenza di ponti e restringimenti e in corrispondenza appunto dei centri abitati, il tipo di vegetazione che è consentito mantenere sarà una vegetazione sicuramente più flessibile di tipo arbaceo. Un cenno particolare alle specie esotiche che in relazione al tipo di intervento che viene effettuato possono essere più o meno, diciamo, favorite. In particolare, volevo ricordarle, c'è la robina pseudocacia, molto ormai naturalizzata, si sta sviluppando parecchio l'acer degundo che è un acero americano, il prunosserotina nella parte soprattutto nord del Piemonte, l'ailantus e altre specie arbustive in particolare presente ormai diffusa, la morfa frutticosa, la buddleia davidi che è presente come specie di tipo arbustiva che si è diffusa dai giardini e mentre le arbacee e sarmentose particolarmente invadenti sono la renutria giapponica o fallopia giapponica e il sitius angulata. A questo punto abbiamo visto i criteri generali di intervento e poniamoci la domanda ma chi interviene? Chi è che può intervenire in questi casi in caso di necessità di gestione della vegetazione? I soggetti diciamo che di solito intervento intervengono sono gli enti locali o se no direttamente l'autorità idraulica che può essere quindi la regione Piemonte con le proprie squadre forestali o l'agenzia per il PO per i tratti di sua competenza. Insieme agli enti locali è stato sperimentato, sono state anche effettuate interventi con la protezione civile, è stato fatto un programma comune, è stata fatta una specifica deliberazione di giunta che definisce i criteri, le metodologie di intervento nel caso del volontariato della protezione civile. E poi ci sono i soggetti privati che si possono sostituire appunto agli enti locali e l'autorità idraulica facendo specifica istanza e quindi ottenendo l'autorizzazione idraulica e la relativa concessione ed emaniale ed effettuando la comunicazione di taglio. A questo punto per ricapitolare e andare più sul pratico vediamo alcuni video che sono stati fatti appositamente e che riguardano diversi tratti, quindi un tratto montano, un tratto pedemontano e un tratto di pianura. Nel primo video che vediamo, il video è localizzato in Alta Val di Susa, vediamo quella che è la realtà montana della vegetazione riparia e come questa si rispetto appunto alle condizioni locali, come questa si pone nei confronti del rapporto tra vegetazione e rischio idraulico. Allora qui siamo in un ambito prettamente montano, la vegetazione ovviamente si adatta alle condizioni diciamo ambientali e quindi segue in modo altimetrico la distribuzione diciamo delle facce di vegetazione. In questo caso siamo in Alta Val di Susa, a monte di Ulx e siamo vicino al torrente e possiamo già vedere che in questo caso qui se ci poniamo alla domanda se, come intervenire o cosa fare, a volte la risposta ce la troviamo già di fronte agli occhi. In questo caso qui vediamo il torrente che siamo a monte di un attraversamento diciamo carrabile, a monte di un ponte, il torrente sostanzialmente si autopulisce, cioè non troviamo vegetazione in alveo. La velocità della corrente e quindi la capacità erosiva del trasporto solido in questo caso qui fa già tutto, diciamo automaticamente si autogoverna. Quindi se uno mi domandasse ma in questo caso qui cosa dobbiamo fare? In questo caso qui la soluzione è il non intervento, non dobbiamo fare assolutamente niente. Vediamo anche che comunque il torrente qui problemi a livello di erosione spondale ne ha determinati. Dalla parte opposta in sponda a destra vediamo una difesa spondale realizzata con massi ciclopici proprio perché nel caso delle ultime alluvioni diciamo in quel caso lì c'è stata un'erosione di sponda e quindi con l'erosione anche della parte diciamo retrostante. La parte retrostante era costituita da un bosco ripariale, in questo caso principalmente di Pino Silvestre. In questo caso qui una parte della vegetazione è stata rosa, è stata trasportata via dal trasporto solito della velocità della corrente. La soluzione in questo caso a livello di ricostruzione è stata quella più veloce, è stata quella di realizzare una difesa in massi. dietro alla difesa in massi dove c'è stato il riporto del materiale però è stato fatto un rimboscimento, una rinaturalizzazione che adesso non vediamo però in realtà se ci concentriamo da vicino possiamo vedere. Quindi in questo caso la natura pian piano cercherà di recuperare quanto è stato asportato via diciamo dalla forza dell'acqua. L'altra cosa che possiamo osservare è che abbiamo una parte di deposito di materiale legnoso, legno morto quindi presente in alveo, le dimensioni però del legno morto non ci possono pensare, possono diciamo farci stare abbastanza tranquilli nel senso che in questo caso qui queste dimensioni non ci danno problemi nei confronti diciamo degli attraversamenti successivi. La cosa fondamentale è sempre comunque andare a analizzare quanto che c'è a monte e a valle della situazione puntuale dove abbiamo un problema puntuale. Chiaramente come abbiamo visto in corrispondenza di criticità che sono appunto gli attraversamenti o in corrispondenza dei centri abitati l'approccio è sicuramente differente rispetto a quello che dobbiamo avere quando siamo al di fuori dei centri abitati e non siamo in corrispondenza a monte o a valle di attraversamenti. Un altro aspetto fondamentale che in area montana dobbiamo sempre tenere presente è che spesso il materiale che noi troviamo poi depositato diciamo in alveo si è visto che in realtà non arriva dalle sponde ma buona parte arriva in caso di precipitazioni intense quindi diciamo di fenomeni molto intensi e arriva praticamente dai versanti. I versanti che poi con l'accumulo delle precipitazioni si appesantiscono ci sono dei crolli localizzati, con i crolli localizzati abbiamo il materiale legnoso quindi direttamente la pianta che scivola nel corso d'acqua e che viene quindi trasportata quindi spesso non è proprio così vero che diciamo il materiale che bisogna diciamo gestire la vegetazione con un approccio molto drastico, la vegetazione spondale con un approccio molto drastico perché spesso non è quella diciamo che dà i problemi in caso di precipitazioni intense ma è il materiale che ci arriva dai versanti. In questo caso qui la soluzione diciamo più veloce a un problema di erosione spondale è stata la realizzazione della difesa di sponda in massi ciclopici. La velocità dell'acqua e il trasporto solito qui ci ha guidato verso quella soluzione. Fare esclusivamente una difesa diciamo di tipo naturalistico in questo caso qui non sarebbe stata la soluzione giusta. Nonostante ciò comunque la natura in parte partecipa al consolidamento della sponda. In questo caso se noi andiamo a vedere da vicino vediamo dei salici che si sono diciamo si sono sono cresciuti in corrispondenza del piede della difesa e anche loro concorreranno diciamo a consolidare la sponda e limitarne l'erosione. Allora in questo secondo video vediamo invece sempre in una realtà montana una situazione differente con una presenza a bordo del corso d'acqua di un bosco ripario. Si tratta di una pinetta di pino silvestre che è un bosco ripario tipico, è una categoria forestale tipica presente in alcune valate piemontesi. Qui siamo sempre in alta val di susa in una pinetta di greto, siamo a circa 100 metri grosso modo dal dall'alveo ad una distanza in cui la vegetazione si sviluppa con questa pinetta diciamo che è tipica di questa zona che viene interessata diciamo dall'acqua in eventi eccezionali ovviamente. In questo caso qui non ci sono problemi particolari per quanto riguarda la gestione della vegetazione, si seguono le diciamo le norme servicolturali normali. Quello che mi interessava qui diciamo porre l'attenzione è sull'importanza che hanno questi boschi diciamo per i fluviali nella piana inondabile a monte dei centri abitati perché in questo caso qui ovviamente questi svolgono una funzione fondamentale di rallentare l'onda di piena quindi hanno un effetto di quello che si dice di laminazione per cui la presenza diciamo del bosco aiuta a diciamo rallentare l'onda di piena e quindi fare in maniera tale che l'ondata principale non arriva non arrivi rapidamente diciamo a valle e quindi consenta di avere dei picchi di piena diciamo più bassi. È un aspetto fondamentale che bisogna tenere presente sempre e ovviamente deve essere gestito, deve essere pianificato nell'ambito di una diciamo pianificazione di tratti per tratti emogenei che riguardano più chilometri del corso d'acqua. Allora nel prossimo video che vediamo ci siamo spostati in una zona piedemontana. La situazione è differente sia per quanto riguarda il corso d'acqua quindi la velocità, la capacità di erosione e la stessa vegetazione che si è adattata quindi siamo in una tipologia forestale diversa in un saliceto piopeto ripario dove si sviluppano oltre diciamo alle specie autottone anche incominciano a vedersi le specie esotiche. Siamo scesi in una zona di fondo valle quindi dalla zona più alta siamo scesi di altitudine e qui la vegetazione riparia si adatta appunto a un livello di altitudine inferiore ed è costituita esclusivamente da latifoglie. In particolare diciamo le specie principali in questo caso sono il pioppo che può essere ibrido o nero ma principalmente pioppo nero poi vediamo il salice bianco e vediamo alcune specie di accompagnamento vediamo il frassino maggiore perché siamo in una zona comunque fresca e lontano nero. Accanto a queste specie che sono tutte autottone in questo caso qui si incomincia a vedere diciamo specie che sono state introdotte e che possono costituire o meno problemi dal punto di vista della vegetazione riparia tipica autottona perché è tipo appunto in questo caso la robinia pseudoacaccia che sarebbe questa per chi non la conoscesse ma penso che tutti la conoscano la robinia pseudoacaccia che diciamo si inserisce e nei tagli di utilizzazione forte dove diciamo il prelievo è elevato ha un sviluppo molto più veloce rispetto alle specie autottone quindi riesce a colonizzare molto più velocemente gli spazi aperti. Detto questo siamo comunque in una situazione dove la velocità della corrente è ancora abbastanza elevata quindi il trasporto solido non è più a livello diciamo di come le zone di alta valle ma anche in questo caso la difesa che è stata fatta qua è stata fatta appunto con massi ciclopici. Siamo a monte di un attraversamento quindi di un ponte stradale abbastanza monte vedremo che poi diciamo più a valle in corrispondenza diciamo dei 100 metri a monte dell'attraversamento è stato fatto un intervento di taglio volto appunto diciamo esclusivamente dal punto di vista della ufficiosità idraulica quindi a consentire e a mantenere le sezioni di deflusso rispetto diciamo a quello che deve essere consentito dal punto di vista della quantità di acqua della portata di acqua che deve passare. In questo caso siamo in una di quelle condizioni in cui in linea di massima in questa stagione gli interventi selvicolturali sono fermi diciamo siamo in un periodo di silenzio selvicolturale che vale per le aree di pertinenza dei corpi idrici e quindi in questo periodo gli interventi in bosco e in particolare gli interventi nella fascia di pertinenza non sono consentiti fatto salvo ovviamente interventi di urgenza. Come possiamo vedere più a valle anzi lo vedremo lo vedremo dopo è stato fatto da una parte un intervento diciamo più drastico di taglio raso e invece più a monte è stato fatto un intervento diciamo di tipo selettivo per comunque eliminare tutte quelle situazioni di piante che creano instabilità o possono tendenzialmente creare instabilità. Nell'ultimo video che vediamo vediamo un tipo di intervento che è stato effettuato di gestione della vegetazione su un bosco perifluviale dove la copertura diciamo residua abbastanza scarsa direi può facilitare effettivamente l'inserimento delle specie esotiche. Qui siamo sempre in riva al fiume saremo a circa 20 metri dalla sponda in un'area dove è stato fatto un taglio che si avvicina più a un taglio di utilizzazione in quanto la copertura residua diciamo è sicuramente inferiore al 25 per cento. In questo caso sono state rilasciate un certo numero di piante essendo la copertura residua abbastanza limitata qui c'è un po il rischio appunto delle specie esotiche che si inseriscono e si inseriscono e praticamente possono prendere sopravvento. Abbiamo una robigna lì davanti questo qui è un è un acero negundo un acero americano che si sviluppa molto velocemente per cui qui in questo caso abbiamo queste due specie in altri casi più nelle aree di pianura ne abbiamo altre tipo appunto l'area nutria japonica che se abbiamo poca copertura si diciamo si espande molto velocemente colonizza la superficie impedisce poi alle specie autoctone di evolversi. E con questo direi che è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alla visione di un ultimo video che è un'animazione fatto dall'agenzia dell'acqua francese che mi sembra particolarmente significativa relativamente all'argomento che abbiamo trattato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.